Benvenuti in Harry Winston Harry Winston è un marchio di orologi di lusso e gioielli fondato nel 1932 a New York da Harry Winston, conosciuto come il Re dei Diamanti. Da allora, la casa di alta gioielleria è diventata famosa in tutto il mondo per i suoi gioielli unici e straordinari, spesso indossati dalle celebrità sul red carpet. Negli anni Ottanta, Harry Winston ha iniziato a produrre anche orologi da polso, che si sono rapidamente guadagnati una reputazione di qualità e innovazione. I suoi orologi sono caratterizzati da design originali, materiali pregiati e meccanismi di alta precisione. Una delle collezioni più famose di Harry Winston è la Opus, una serie di orologi di lusso realizzati in collaborazione con alcuni dei più grandi nomi dell'orologeria svizzera. Ogni orologio Opus rappresenta una sfida tecnica e creativa unica, e il suo design è spesso sorprendente e non convenzionale. Ma non è solo l'Opus a rendere Harry Winston uno dei marchi di orologi più apprezzati al mondo. La casa di alta gioielleria vanta anche una vasta gamma di altri segnatempo, tutti caratterizzati da design originali e innovativi, materiali pregiati e meccanismi di alta precisione. Harry Winston è anche conosciuto per essere stato nominato più volte al Grand Prix d'Orlogerie de Genève, ma soprattutto perché lo vinse nel 2009 con l'Opus 9, un segnatempo automatico di alta gamma che ha vinto il premio design, grazie alla sua particolare indicazione dell'ora. Questo segnatempo presenta sul quadrante due catene di diamanti parallele, che non sono solo un elemento decorativo, ma l'elemento principale della lettura del tempo. Infatti sostituiscono le tradizionali lancette dell'orologio, indicando ore e minuti con un diamante rosso all'interno della catena. Inoltre, Harry Winston è famoso per il suo design unico e innovativo, che fonde tradizione e modernità in un equilibrio perfetto. I gioielli di Harry Winston sono caratterizzati da linee pure ed eleganti, che mettono in risalto la bellezza dei diamanti e degli altri materiali utilizzati. In sintesi, Harry Winston è un marchio di orologi e gioielli di lusso di alta qualità con una lunga storia di eccellenza e innovazione. I suoi orologi sono famosi per i loro design originali e sorprendenti, mentre i suoi gioielli sono conosciuti per la qualità dei diamanti utilizzati. Se stai cercando un orologio o un gioiello di alta gamma e sei alla ricerca di un prodotto unico e di alta qualità, Harry Winston è sicuramente un marchio da considerare. Grazie alla sua lunga storia di eccellenza e innovazione, Harry Winston continua a rappresentare il massimo della bellezza e dell'artigianalità nel mondo dell'orologeria e della gioielleria di lusso.